Si è riunita la categoria dei fabbri presso la parrocchia Santa Barbara per eleggere le nuove cariche per le processioni della Real Maestranza 2023. Nel corso dell'Assemblea, alla presenza dell'assistente spirituale Don Marco Paternò, moderata dal presidente Salvatore Di Mauro, i partecipanti hanno eletto alla carica di portabandiera Francesco Natale, alla bardiere Arcangelo Maglio Giammusso e porta baldacchino Michele Martorana, che rappresenteranno la categoria dei fabbri nel corso della prossima processione della Settimana Santa. Francesco Natale, nato a Caltanissette il 28 novembre 1986, sposato con Silvia Cerami, ha due figli, Giorgio e Carlo, di 7 e 4 anni. Figlio d'arte, ancora oggi prosegue orgogliosamente la sua attività a Caltanissetta. Arcangelo Maglio Giammusso, nato a Caltanissette il 16 maggio 1999, imprenditore nisseno nel settore delle porte industriali e della refrigerazione industriale. Michele Martorana, nato a Caltanissette il 24 dicembre 1953, sposato con Maria Santa Cavallotto ha due figli, Antonella e Alessandra, con oltre 40 anni di attività alle spalle. Intanto si avvicina il periodo pasquale, che comincerà da mercoledì 22 febbraio, con il giorno delle ceneri, giorno d'inizio della quaresima. Quest'anno il capitano della Real Maestranza è il 64enne Giuseppe Mangione, della categoria Lattonieri Idraulici. Mangione è stato eletto all'unanimità, che ha convinto e soddisfatto tutti, indice di una categoria solida e coesa. Con l'inizio della quaresima iniziano anche i sabatini, che porteranno alla settimana santa dal 2 al 9 aprile.